E' nata nella sede di Castellazzo Soccorso a Castellazzo Bormida la nuova associazione sanitaria ambulanze regionale. Si chiama Areza ed è il frutto della fusione di 10 associazioni on-loose e costituirà una sorta di sindacato dei soccorritori. Questo naturalmente è solo l'inizio di una storia che potrebbe svilupparsi facendo crescere il numero degli aderenti. Altre richieste sono già arrivate e saranno formalizzate e integrate entro breve tempo. Delle 10 associazioni attuali on-loose che compongono Areza, 5 hanno sede in provincia di Alessandria, 2 nel Novarese, 2 nel Torinese ed una a Biella. In pratica una rete di soccorso per quattro province che ha così raggiunto la dimensione sufficiente per sedere ai tavoli regionali, fare quindi formazione in autonomia e tra gli scopi c'è anche quello di una formazione unica per tutto il personale, stipulare convenzioni e soprattutto mettere reciprocamente a disposizione uomini e mezzi di soccorso. Le cinque entità della provincia di Alessandria sono il gruppo Castellazzese, la Misericordia di Tortona, quella di Acqui, Novi Soccorso, Croce Verde Valcerina, le due di Novara sono invece Croce di Sant'Andrea e Croce di Santa Giustina, le due del Torinese Croce Più e Croce Verde di Villa Stellone e quella di Biella, la Croce Blu Italia. Tutto il direttivo di Areza è composto da volontari, il presidente Giuseppe Farina di Castellazzo Soccorso e con lui nel CDA Pietro Avella di Tortona, Felice Buscaglione di Biella, ancora Mauro Guala di Acqui e Bel Iman Tariq di Novi, delegato a trattare Regione Enrico Barberis, fondatore di Castellazzo Soccorso e promotore di Areza con i gruppi di Tortona e Biella. Barberis ha dichiarato stiamo ricevendo altre adesioni, soprattutto dall'Astigiano, il nostro obiettivo è crescere ancora per meglio rappresentare gli interessi dei nostri associati a tutti i livelli e le 100 ambulanze e i 500 volontari che compongono la resa, aggiungiamo noi e un ottimo inizio.